Momento musicale e benefico, sabato scorso al centro all'Ende della Spezia, con il concerto jazz del gruppo New Project Quartet. La serata, organizzata dall'associazione Fare Jazz, ha permesso anche di raccogliere fondi a favore di Teleton. Il gruppo è un progetto che vede protagonisti quattro generazioni di musicisti a confronto. Dall'idea del giovane batterista spezzino Matteo Cidale, affiancato da Sebi Burgio al piano e da due firme prestigiose del jazz italiano che completano la formazione, Massimo Moreconi al contrabbasso e Flavio Boltro alla tromba. Grazie all'incontro e all'esperienza maturata con ogni singolo componente del quartetto, Matteo Cidale ha voluto coniugare il talento e l'eccellenza di Moriconi e Boltro con un coetaneo altrettanto brillante come Sebi Burgio. Ho voluto mettere questi quattro musicisti che per me sono i musicisti che ho sempre apprezzato e quindi è veramente un grande piacere poter suonare con loro e con Sebi che è un giovane talento del piano jazz italiano. Il New Project Quartet è dunque il sunto dei diversi percorsi musicali e delle differenti esperienze coltivate negli anni da questi quattro artisti, dalla rivisitazione dei classici standard jazz alle canzoni più famose della storia della musica italiana, passando anche per alcune grandi colonne sonore. Il New Project Quartet è un grande piacere di Moriconi e dei diversi percorsi musicali e delle differenti esperienze.